In una conferenza stampa sono state illustrate le novità per la risoluzione dei problemi riguardanti i magazzini dei pescatori. Insomma, i marittimi di Pescara pagheranno meno per il loro box grazie alla sinergia comune con il flag e la direzione marittima. Alla conferenza presenti il sindaco Carlo Masci, il direttore marittimo Salvatore Minervino, che ha fatto ceno anche alla questione dragaggio e lavori per il nuovo porto, i rappresentanti del flag Cossa di Pescara, gruppo di azione locale per la pesca, il presidente degli armatori Scordella e Riccardo Padovano, delegato comunale per le attività portuali. Cambia da oggi che la pubblica amministrazione è riuscita a fare un atto amministrativo geniale, il che significa che a Pescara avevamo 44 box per pescatori, ognuno di loro doveva fare una pratica unitaria e quindi agli uffici arrivavano 44 pratiche, ma al di là delle pratiche che ormai gli uffici erano abituati. Il fatto è che ogni pescatore per 16 metri quadri veniva a pagare 2.500 euro contro le 400 dell'anno 2000 e quindi c'è stato uno sbalzo di aumenti non indifferente. Purtroppo la legge ha portato i canoni minimi da 400 al 2005 e anche i pescatori purtroppo si sono trovati. Che cosa ha fatto il flag? Cioè il comune di Pescara ha messo insieme un ragionamento politico-amministrativo, ha detto loro, entrate tutti all'interno del consorzio flag che è quello dei pescatori, il flag fa un'unica concessione con l'autorità portuale e poi il flag di conseguenza rialloca a ognuno il proprio box, quindi fa una sorta di sub-affitto. E regolato dal codice navigazione, quindi l'articolo 45 bis, l'icomitato dell'autorità portuale di cui io sono membro del Consiglio, ha ragionato su questi termini qua, di fare un solo titolo di maniale intestato al flag e di consegnare a tutti i pescatori di mantenere il magazzino. Quindi questo è stato unico in Italia.